Allarme guerra! Il nuovo nemico non è né liquido né a piastrina, è l'antizzanzare Raid Portatile! Vada per tutto! Qui in Tokyo! Ora non c'è più scampo! Ecco la batteria! Parti la ventola! Via! Raid! Qui in Roma! Spostano Raid Portatile ovunque! E' una mina vagante! Raid! Raid Portatile, spina sparita, zanzara stecchita. Leggere attentamente quanto riportato sulla confezione.